Ciao bambini, benvenuti a Discovery Christmas. Io sono il professor Discovery e insieme al mio amico il professor Milo sono partito per una grande avventura, il viaggio dell'avvento. Come non sapete che cos'è l'avvento? Passiamo allora subito la parola al professor Milo. Bene, vediamo di capire qualcosa di più sull'avvento, cari bambini. Allora l'avvento è quel tempo che ci prepara alla nascita di Gesù Bambino. Anche noi possiamo metterci in cammino seguendo la stella per trovare quella grotta dove Gesù Bambino nasce, da qualche parte vicino alle piramidi in Egitto. Ma cosa sta dicendo questo qua? È fuori di testa. Deve aver perso la bussola. Sarà meglio che gli telefoni prima che sia troppo tardi. Pronto? Qui parla il professor Milo. Pronto? Milo, ma che cosa stai dicendo? L'Egitto, le piramidi. Ok, hai ragione, sì. Guarda che stai andando fuori strada. Forse ti sei dimenticato della bussola che guida il nostro viaggio. Hai ragione, Discovery. Forse è meglio fare una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bambini, non si può affrontare il viaggio dell'Avvento senza la bussola della preghiera. La bussola è quello strumento che ti permette di non perdere la direzione per sapere da che parte devi andare. Senza la bussola non si va da nessuna parte. E allora non possiamo fare il viaggio dell'Avvento senza fare una preghiera tutti i giorni. Altrimenti è come essere senza bussola e non troveremo mai la direzione per arrivare al Natale di Gesù. Wow, andiamo! Allora mi raccomando, bambini, durante il nostro viaggio una preghiera al giorno, come quella che abbiamo fatto insieme adesso, per non perdere la bussola. Ci vediamo alla prossima puntata di Discovery Christmas. Scusa, guarda che gli altri remaggi stanno arrivando. Io intanto carico i bagagli. Remaggi? Nu c'èo.